minuti di tempo per rispondere a una decina di domande con risposte secche, quindi sì, no. Pronto? C'è anche il countdown. Prima domanda, Forza Italia, ecco che parte il tempo, ha fatto il suo tempo? Così come la conosciamo sì, può dare un contributo a fare qualcosa di altro e diverso. Salvini un giorno sarà premier? Me lo auguro, ci ho creduto fino, si direbbe da quando era un ragazzo, insomma da quando abbiamo conquistato insieme questa regione cinque anni fa, io mi auguro che lo faccia e che lavori soprattutto per farlo e che ne sia convinto lui stesso. Salvini ha perso alle ultime elezioni? No, il centrodestra ha vinto alle ultime elezioni e dunque anche la Lega ha vinto alle ultime elezioni, soprattutto Salvini ha vinto alle ultime elezioni essendo il capo coalizione fino a prova degli elettori contraria di una coalizione che ha conquistato una regione in più. Lei parla della Liguria? No, io parlo delle Marche che è stata conquistata in più e abbiamo ottenuto tutte le nostre. E la sconfitta in Toscana? Beh, la sconfitta in Toscana, diciamo, è come una squadra che va a giocare fuori casa contro il Bayern Monaco, il Barcellona o il Real Madrid. È una sconfitta No, io non capisco di calcio, quindi ha detto una cosa sicuramente giusta, quindi va benissimo. Dico che perdere in Toscana, una regione storicamente rossa, ma è vinta dal centrodestra, è tutta franchezza, non mi sembra una notizia. È l'uomo che morde il cane la notizia, non il cane che morde l'uomo. Se avesse vinto sarebbe una grande notizia. Sovranismo vuol dire? Tutela degli interessi nazionali, credo, talvolta però è stato usato molto a sproposito anche nel dibattito politico. Conte è stato bravo a? Beh, direi che è stato bravo a sopravvivere fino adesso. E non è stato bravo a? Beh, no, ma non credo. Guardi, io ho buona stima del Presidente Conte. Credo che purtroppo non sarà mai bravo fino a quando governa con dei partiti che tra loro non c'entrano niente l'uno con l'altro. È stato bravo a fare il vigile urbano all'incrocio per evitare degli scontri. Non sarà mai bravo a far andare in pista quelle macchine più veloce di quanto non stiano andando perché non vi sono le condizioni. Raffaele Fitto è stato il candidato giusto per la regione Puglia? Raffaele è un amico, è un politico che sa fare il suo mestiere, è molto preparato. Penso di sì, francamente, dopodiché il fatto di vincere o perdere non sono solamente qualità del candidato. Giù dalla torre Nicola Zingaretti o Luigi Di Maio? Non mi fate fare cose violente. Io non butterei giù dalla torre. Senza violenza. Non butterei giù dalla torre nessuno, ma francamente non vado politicamente d'accordo con nessuno dei due. Personalmente sono due persone gradevoli entrate. Invece Trump Biden? No, io ti fotrà. Ah, vedi, in questo caso butterei giù. Un'ultima domanda che sappiamo esaurito il tempo. Cambiamo arriverà al? Cambiamo deve arrivare al governo del paese insieme ai suoi alleati. E un numero non me lo dà? No, perché mi interessa poco. Ho criticato talvolta, come dire, gli eccessi muscolari degli alleati che guardano troppo i loro numeri di partito. Non lo voglio fare io. Io voglio arrivare, dare il mio contributo, far arrivare il centrodestra a Palazzo Chigi e farlo arrivare in forma equilibrata. Dopodiché sono disponibile, sereno, a lasciare tutto lo spazio agli altri. Grazie al presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, a quale auguriamo...